Sì, grazie Presidente. Volevo rendere semplice l'articolato del mio emendamento. In sostanza noi andiamo a prevedere 150.000 analisi serologiche che evidentemente sono un campione statistico rappresentativo dell'intera popolazione italiana. Da questo campione statistico si evincerà sicuramente la presenza e in che presenza il virus ha colpito la nostra nazione e soprattutto la possibilità che si siano formate anticorpi specifici per la malattia. Esemplificando però, Presidente, nell'articolato non si evince la disarticolazione degli stessi dati su base regionale. E questo è un elemento di assoluta importanza. Perché, Presidente? Perché soprattutto nella fase 2, nella fase 3, cioè nelle varie fasi che evidentemente si avvicenderanno a quella che stiamo vivendo, avere una rappresentazione puntuale della presenza passata del virus all'interno delle regioni ci può consentire di poter operare con maggiore presenza e con maggiore convinzione alcune operazioni. Mi spiego meglio. Se noi sappiamo che in un dato vi è la presenza e quindi vi è un'immunità diffusa, che non chiamo di gregge perché evidentemente non siamo ancora a livelli di immunizzazione di gregge, penso alla Lombardia, ma ad una immunizzazione diffusa di un territorio, in quell'interritorio evidentemente dobbiamo prendere dei provvedimenti diversi rispetto a quelli di un'altra regione, immagino la mia regione, la Puglia, nella quale per fortuna per il momento l'incidenza della malattia è statisticamente pari allo zero o quasi pari allo zero. Allora avere questo dato spacchettato e comunque metabolizzato e prodotto dall'Istat e non affidato alle regie locali che devono analizzare un flusso di dati, secondo me è fondamentale. Io lo dico al sottosegretario, mi rivolgo al governo, su questo punto che diventerà anche oggetto di un mio eventuale ordine del giorno, non lo spero, ma nel momento in cui doveste bocciare l'emendamento, questo punto per me diventa qualificante per l'azione futura e ve lo consegno come riflessione sottosegretario. I dati devono essere rappresentati a livello regionale perché in questa triste vicenda ogni regione ha avuto un'influenza, ogni regione ha avuto un'incidenza diversa della virulenza. Allora rispetto a questo noi dobbiamo avere una fotografia diversificata delle regioni in modo da poter poi agire ex post con maggiori dati e maggiore cognizione.